Settimo rapporto di CNA sul mercato della nautica, come è nata questa indagine e quali sono gli obiettivi? Dunque, questa indagine nasce insieme alla CNA con l'obiettivo di dare una descrizione di quella che è la filiera della nautica del riporto e incentrando l'attenzione sul ruolo delle micro e piccole imprese presenti all'interno della filiera. Quanto vale a livello italiano questo settore? Nel 2018 la nautica del riporto italiana, la produzione, ha sperimentato un incremento di circa 14 punti percentuali. Si tratta di un incremento enorme considerando che la manifattura nel suo complesso è aumentata soltanto dello 0,9%. Qual è la situazione dello spezzino a livello nazionale e internazionale? La situazione dello spezzino, del Golfo della Spezza in particolare, è veramente lo specchio non solo dell'industria italiana, ma vorrei dire dell'industria mondiale. L'Italia conferma a livello internazionale la sua leadership. Oltre il 40% dei grandi yacht, oltre i 30 metri in costruzione, è ad opera di cantieri italiani. Però piace ricordare che dei primi tre al mondo, tutti e tre italiani, due sono qua nel Golfo, nel famoso Miglio Blu, che è in via di costituzione qui nello spezzino. Il secondo elemento di grande importanza che si traduce davvero in una grande prospettiva e una grande opportunità per il Golfo è quello della seconda industria generata dalla produzione dei grandi yacht. L'industria del turismo nautico, cosiddetto di eccellenza. Le coste italiane sono le prime come numero di yacht ospitati. Parliamo di 8.850 toccate, calls, quindi approdi a costi di singoli yacht, per una permanenza media di 4 giorni ad approdo. Soltanto il valore economico generato da questi approdi supera i 500 milioni di euro in un anno. Ma si tratta anche di una grandissima opportunità di indotto ulteriore perché per il resto dell'anno permane lungo la costa, con i suoi equipaggi, fa operazioni di refittaggio, quindi di riparazione, di rimessa in ordine in attesa della stagione successiva. Ed è un grosso patrimonio che si può riversare ulteriormente sul territorio. Anche in questo il Golfo della Spezia è attrezzato per due motivi. Primo perché ha un'industria alle spalle importante sulle nuove costruzioni. Secondo perché è vicino a mete turistiche importanti, la Corsica, la Sardegna, le stesse 5 terre. E soprattutto il Golfo della Spezia, proprio per sua natura, è pronto ad accogliere queste grandi barche.